qui stiamo facendo un e il punto di vista di cazzo ci chiamo è lui che sta ucciso prodotti schifo ovvio o se il trombino totale la pena che i denti di ciò t'acciso lui è appena un'abbiante e ovvio non lo viva la testa di cazzo si tra gli altri acquistano più oh, guarda se si dà una mossa oh, c'era pure ora guardammo come lo faccio cascare quali erano i tasti? oddio, non mi ricordo, era X? no, era X mannaggia, me l'ho dimenticato guarda che stupido è un tanto mo' caschi, t'ho detto te copro? a te ma guarda, è stravissuto lo starnabbo ma non ci voglio credere dai che par di palle ma dove sta? ma che sasso sto facendo mi senti Daniel? eh, mi sate no perché si vuole vici no, ti sento ah, ok aspetta eh, lo vedo lo vedevo è sopravvissuto che nabbo, dove sta? sei andato cioè, che coglioni ma porca troia ma dove sta así baby no 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 Sto colpito a bici, tranquillo Che è rallentata Cosa? È rallentata No, è uguale a chi? Ma quanti girito? So quattro Cioè, non messi due Però in sta pista ci stanno Cioè, ogni giro ne vale due Che furbo il creatore, eh Wow Ogni due vale un giro Cioè, ogni... Sì, ogni due vale un giro Che cazzo... Oh, è scusate Oh, è scusate Oh, è scusate per te no a che palle o non ho fatto neanche un giro guarda una cascola amico io tutto rapistuto io vedo cpc riguardo come sacco oh mio dio spieghi abili per la b eccola il tuo veicolo spiega muto di angolo se c'è una cosa che devi sapere che il mio veicolo non è per niente parola fatta da un po non c'è qualcosa di che ero posto l'impressione ma dopo a piedi quanto ti manca è un po un bel dono pisa la vera pure i monica tanti proiettili ove che cazzo ecco tu stavano i soldi ma non aspetta che scurba lei sa di nascondere il culo eh con forza droga un'altra donna obesa va tanti soldi stanno qua dico ah mi faccio una notata nella fogna eh dobbè fanno nuovi una fogna salgo in superficie vai vai vedere quanti sardi ho guadagnato oh porca miseria ma ho dato soltanto 300 rp non mi piace quel coglione non ha finito zero denaro eh infatti vabbè la rifacciamo questa volta con un po' più di persone grazie 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 grazie